Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguri. In questo video parliamo di un violento terremoto di magnitudo 6,5, l'ultima violentissima scossa avvenuta nelle scorse ore. Prima di iniziare vi ricordo che a 200 like pubblicherò immediatamente un nuovo video. Il 2024 è iniziato all'insegna dei tanti terremoti e l'ultimo, in ordine cronologico, si è verificato. Nella giornata di ieri, quando in Italia erano le 16.31, il sisma ha colpito il Brasile. Nella fattispecie, la parte ovest del paese, avvalendoci di questo fermo immagine, siamo in grado di localizzare l'epicentro che è stato nella città di Cruseiro d'Osul, di 80.000 abitanti. Al momento non abbiamo dati relativi a danni o vittime eventualmente. Ve li comunicherò in un prossimo video. Il secondario Marco Liguri vi terrà aggiornati sui prossimi eventi sismici, come diciamo sempre, con la speranza di narrarne sempre meno, amici di YouTube. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video.